La notizia non arriva in attesa. Già nei mesi scorsi e più volte il rettore dell'Università del Salento, Domenico Laforgia, lo aveva preannunciato. L'Ateneo, in seguito alla riduzione del 10% dei finanziamenti statali, dovrà tagliare le spese per quasi 4 milioni di euro, incidendo su quei capitoli che in realtà determinano la qualità dell'offerta universitaria. La ricerca e i servizi agli studenti. Sotto la scure cadranno i contratti di collaborazione con gli studenti, gli assegni di ricerca, la ricerca di base, il venticinquesimo ciclo di dottorato e molte altre voci. La fotografia definitiva di uno scenario drammatico è arrivata al termine del Senato accademico, che ha deliberato, con una sola stensione, i risparmi da effettuare. Per il 2010, sostiene Laforgia, il bilancio verrà chiuso comunque in pareggio, ma il colpo definitivo all'università, per come l'abbiamo conosciuto fino ad ora, verrà nel 2011, anno in cui è previsto un altro taglio del 10%. La decisione del Senato accademico conferma la compattezza di tutte le componenti del fronte universitario nei confronti delle decisioni prese dal Governo a livello nazionale, per il quale gli Atenei sono sostanzialmente istituzioni territoriali che si devono mantenere con il finanziamento degli enti locali, che a loro volta hanno subito dei tagli e con le tasse degli studenti. Che la situazione fosse sull'orlo del tracollo era dunque noto. Adesso, in mancanza di provvedimenti urgenti, bisognerà attendere le ricadute concrete del taglio alle spese. Un altro dato che però va sottolineato per avere un quadro sufficientemente completo della situazione è il peso degli stipendi del personale docente e non, praticamente l'80% del bilancio. Sia ben chiaro, non è una peculiarità dell'Università del Salento, ma la condizione di tutti o quasi gli Atenei statali. Trattandosi però di voci intoccabili, è logico che a rimetterci saranno presto gli studenti. L'Università italiana continua a perdere colpi, dunque, scivolando sempre più verso il basso nel panorama occidentale. Non si può pensare di andare avanti così. I rettori fanno bene ad alzare la voce, perché a loro spetta la gestione quotidiana e la responsabilità di una programmazione. Ma non si può prescindere se davvero si rivoltare dignità e prospettiva al settore universitario pubblico da un ripensamento generale di tutto il sistema, a partire dalle remunerazioni del personale di ruolo.